In questa fila del Made Expo di quest'anno presentiamo diverse novità, tra le quali il nostro ProSupport System. È un sistema di supporti per i pavimenti sopraelevati abbinato alla novità che è il ProSupport Profile. Sono due tipologie di profilo per creare una finitura nascosta, quindi senza elementi visivi come dei pezzi in acciaio presenti nel mercato. È un profilo brevettato e studiato per incollare l'alzata e la pedata di ogni pavimento sopraelevato e per nascondere la giunzione. Questo permette di creare una finitura ad hoc e molto curata. Mentre per quanto riguarda l'altro ProSupport Profile versione B, è un profilo di chiusura che permette di vedere un piccolo elemento ad L sempre per creare una finitura perfetta e a regola d'arte.